Il fenomeno del bullismo. Ce ne stiamo occupando con il consigliere di parità della provincia di Taranto, l'Avvocato Gina Lupo, proprio perché tra le segnalazioni partite dai cittadini che vogliono interloquire con l'ufficio retto dall'Avvocato Lupo, è emerso questo tema. D'altronde è un tema tremendamente attuale. Parlando di bullismo abbiamo visto i soggetti di questa realtà, ora cerchiamo di analizzare le modalità attraverso le quali si espleta questa condotta. Il bullismo può avere tantissime forme, perché è una forma di relazione diretta, poi lo vedremo quando parleremo invece di altri fenomeni che sembrano simili ma non lo sono. Può essere diretto, ti offende, il bullo ti offende, ti prende in giro, addirittura arriva a minacciarti, ti comporta anche delle aggressioni fisiche, spintonamenti o lesioni. Può esserci anche delle modalità, ci possono essere anche delle modalità indirette. Pensiamo ad esempio all'isolamento, il diverso che viene isolato dalla classe. Non ti saluta nessuno, non ti invita nessuno, ti escludono dai giochi o peggio, ti fanno delle smorfie, mentre cammini, mentre giri le spalle c'è il bullo che ti fa le smorfie dietro di te e poi la maggioranza silenziosa che ride, ti calunnia, ti fa oggetto di pettegolezzi. Ecco io ripeto un'altra volta l'importanza, perché guarda Luigi è molto importante, perché spesso si parla sempre di bullo e di vittima. E non si parla sempre di questa maggioranza silenziosa, sono la massa delle persone, perché poi il bullo in sé è uno. Può avere chi lo spalleggia, il fiancheggiatore, il gregario, quello che vorrebbe essere al suo posto e vorrebbe imitarlo, ma in fin dei conti parliamo di un soggetto, di un soggetto che non ha empatia, di un soggetto che vuole affermarsi e lo può fare solo con la prevaricazione o con le offese. Ma la cosa più importante è la maggioranza, le persone, gli amici, i compagni, le compagne che guardano in silenzio e non intervengono per difendere il debole. Perché non lo fanno? Perché hanno paura. Luigi hanno paura di essere a loro volta vittime del bullo, quindi preferiscono guardare in silenzio perché hanno un legame di odio e amore nei confronti del bullo. Lo vorrebbero essere come il bullo leader, anche se un leader consentimi molto negativo, però hanno la paura di essere loro stessi un domani oggetto dei suoi tiri, per cui preferiscono stare lì a guardare. Ed è questa la cosa peggiore, perché chi è vittima del bullo si trova isolato, non ha nessuno disposto a difenderlo.